Giorni di intensi controlli da parte delle forze dell'ordine in tutta la regione. Nell'Isernino è stata arrestata una persona, denunce e sanzioni invece per inosservanza degli obblighi del datore di lavoro. Escoriazioni e contusioni multiple agli arti e prognosi di 12 giorni per un poliziotto di Isernia investito da un 30 senne non molisano incensurato. Quest'ultimo era stato individuato dall'agente fuori servizio dopo aver speso in un'attività commerciale una banconota falsa da 50 euro. Il titolare del negozio, accortosi poco dopo della irregolarità della moneta, aveva così contattato il poliziotto suo conoscente che dopo aver revisionato le immagini del sistema di videosorveglianza e registrato la targa del veicolo del malfattore, aveva allertato la sala operativa della questura per ritrovare il veicolo. Era stato però lo stesso agente, messosi alla guida poco dopo a riconoscerlo nel parcheggio di un ristorante a Colli al Volturno. Avvicinatosi il 36 anni, aveva tentato la fuga urtando un'altra auto e travolgendo l'agente fino ad immettersi a folle velocità sulla statale 158 per poi perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi. Lievie escoriazioni per il fuggiasco, resosi responsabile di spendita di banconote false anche in altri esercizi commerciali. Arrestato si trova ora nel carcere di Isernia. Controlli sul territorio anche da parte dell'arma, accertamenti dei carabinieri in imprese operanti nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti e in alcuni centri di accoglienza. Nella circostanza i carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità per inosservanza degli obblighi del datore di lavoro in materia di formazione, mancata elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi, omissioni delle prescritte cautele contro gli infortuni e sfruttamento di lavoratori. Contestate pure sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 9.000 euro. Infine, Forestali, in un'azienda agricola impegnata nell'allevamento di cavalli, hanno scoperto una incongruenza circa la proprietà di uno degli animali, contestato un illecito amministrativo pari a 600 euro.